cari amici buongiorno il video che andrò ad eseguire oggi è un video particolare praticamente è la simulazione di un attacco di una reazione ad una rapina ciò che può succedere nel nostro mondo della vigilanza operatore di sicurezza guardie giurate eccetera apparirò nel vostro campo correndo in un certo momento perché manco dell'operatore cercherò di neutralizzare il bersaglio il psc non è non attivo qui ma comunque presente partito da 18 metri la pistola è una 9 mm in match dal foglio vado ad eseguire il risultato sembra ottimo visto dal punto difensivo è stato sviluppato in corsa quindi con il fiatone e di difendersi adesso farò vedere i risultati sulla gara sono soddisfacenti è stato sparato un caricatore in corsa presente anche dal mio leggero fiatone e quindi per questa volta il malvivente o i malviventi non l'hanno fatta franca vi saluto alla prossima performance